Ben ritrovati ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici nel salotto di caffè di Traverso, andiamo subito a conoscere chi è l'ospite che oggi ci è venuto a trovare. Diamo il benvenuto ad Antonio Leopardi Barra, funzionario dell'Inps e responsabile ammortizzatori sociali. Con il dottor Leopardi Barra, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Noi vogliamo accendere i riflettori sull'argomento del momento, che è quello relativo al reddito di cittadinanza, rispetto al quale sono state diffuse numerose notizie relative al numero delle domande, al modo in cui si accede, alle domande respinte. Si è creata anche forse molta confusione, tenuto conto che è una misura piuttosto importante, una misura rilevante per quanto attiene il panorama istituzionale politico e di gestione del welfare in Italia. Partiamo subito da un dato, dottor Leopardi Barra. Quante sono queste benedette domande che sono state presentate in Basilicata, le domande complessive, quante sono quelle accettate, quante quelle respinte e poi ci dedicheremo naturalmente ad un approfondimento rispetto ad alcuni aspetti di questa misura. Le domande presentate secondo un calcolo fatto nei giorni scorsi sono circa 13 mila, di cui 9 mila per la provincia di Potenza, le restanti per la provincia di Matera. Diciamo che circa il 70% delle domande risultano accolte. Noi abbiamo anche una tabella che chiedo alla regge, eccola qui, di mandare in onda così da poter focalizzare i numeri. Complessivamente in Basilicata 6.853 risultano accolte, 2.826 respinte. Le restanti domande devono essere ancora esitate. Si tratta di domande pervenute oltre che presso la direzione provinciale di Potenza, anche presso la direzione provinciale di Matera e presso le nostre agenzie territoriali, quindi Lago Negro, Villa d'Agri e Melfi per la provincia di Potenza, Policoro per la provincia di Matera. Vostre agenzie dell'Istituto di Previdenza Sociale, ma noi sappiamo che comunque le domande sono state raccolte anche dai CAF. Sì, in effetti questa misura, reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, si tratta di una misura di contrasto alla povertà e quindi che prevede il reinserimento nell'attività lavorativa dei nuclei familiari, nonché l'inclusione sociale. Quindi le domande vengono presentate in qualsiasi giorno del mese presso i centri di assistenza fiscale e presso in modalità telematica con SPID collegandosi al sito reddito di cittadinanza, www.redditodicittadinanza.gov.it oppure presentate dal giorno 6 di ogni mese presso gli uffici postali. Veniamo a queste 2826 domande respinte. Che cosa accade? Sono dei cittadini completamente esclusi o da parte loro c'è la possibilità di ripresentare la domanda? A base della domanda di reddito o di pensione di cittadinanza c'è la presentazione da parte di ogni nucleo familiare della cosiddetta DSU, ossia la dichiarazione sostitutiva unica, che dà luogo a un indicatore ISEE. Quindi in queste 2226 domande respinte ci sono sia nuclei familiari sia cittadini singoli? Allora ogni richiedente presenta la DSU per se stesso se è single per il nucleo familiare qualora appartengano al nucleo altri soggetti, quali il coniuge o figli o altri soggetti che hanno la stessa residenza anagrafica del nucleo familiare. E qui c'è un altro problema che è venuto fuori, quello relativo al fatto che se all'interno di un nucleo familiare ci sono dei soggetti maggiorenni, possono a loro volta fare domanda di reddito minimo di cittadinanza? Reddito minimo di inserimento? Reddito di cittadinanza, nel momento in cui è stato anche presentato dal capo famiglia diciamo. No, il discorso è questo, che se il soggetto maggiorenne fa parte dello stesso nucleo è il genitore che presenta... Vale diciamo la domanda del genitore. Vale la domanda del genitore. Diciamo nello stato di famiglia non deve appartenere a questo nucleo familiare se volesse percepire. Esatto, deve essere una persona che è fuoriuscita dal nucleo familiare, in tal caso se è in corso di fruizione la misura, in tal caso dovrà essere presentata una nuova DSU, quindi un nuovo ISEE e salvo nei casi di decesso o di nascita di un soggetto nell'ambito del nucleo familiare dovrà essere presentata anche una nuova domanda di reddito di cittadinanza. Io le rifaccio un attimo la domanda che le avevo fatto all'inizio. Queste 2826 utenze, chiamiamole così, sono state escluse definitivamente o possono ripresentare domanda perché c'erano degli errori commessi nella compilazione, non lo so, dell'ISEE oppure... Io suppongo che la maggior parte di queste domande, se non si modifica la situazione patrimoniale del nucleo, quindi l'indicatore ISEE è inferiore a quello previsto di 9.360 Euro, si tratta di domande che sono escluse dalla misura. Invece chi se ne fosse dimenticato oppure non si è attrezzato ha la possibilità comunque di presentare domanda, non c'è una scadenza? No, non c'è una scadenza. Come le ho detto prima, la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno del mese presso il CAF e in modalità telematica e dal 6 di ogni mese alle poste italiane, quindi le poste italiane entro i 10 giorni lavorativi successivi invia telematicamente all'Inps la domanda e l'Inps successivamente, nei successivi 5 giorni lavorativi, collegandosi con le banche dati dell'istituto e delle altre amministrazioni collegate, consente entro la fine del mese successivo di esitare la domanda. È vero che l'Inps invia gli sms addirittura per avvisare? Sì, in effetti nella domanda il richiedente indica il recapito e così che l'Inps già ha inviato per il primo mese, per il mese di aprile, gli esiti delle domande, quindi sia di quelle accolte, sia di quelle respinde, motivando la causa per le quali... Una volta accolta la domanda, la domanda entro quanto tempo queste persone possono ritrovarsi il denaro nelle proprie tasche? No, diciamo che l'Inps già il mese di aprile ha predisposto il pagamento a poste italiane, quindi poste italiane convocherà i singoli richiedenti, a cui rilascerà la carta RDC con la quale i singoli potranno insomma beneficiare dell'importo... Utilizzarla come ben sappiamo che va utilizzata... Sì, va utilizzata... Secondo delle disposizioni vere e proprie di legge rispetto alle quali non si può transigere... Si può già utilizzarla per acquistare beni di prima necessità e quant'altro, è previsto dalla legge insomma. Con un contributo che è stato realizzato dalla redazione della Nuova Tg, noi cerchiamo di affrontare un altro aspetto che attiene a questo argomento, intanto io le verso il caffè nella speranza che non si sia raffreddato e intanto chiedo alla regia di mandare questo contributo. In questi giorni sono diverse le richieste di chiarimento che stanno aggiungendo i sindacati da parte di cittadini fruitori del reddito minimo di inserimento, che hanno inoltrato domanda di partecipazione anche al reddito di cittadinanza. Gli stessi stanno ricevendo messaggi dall'Inps che comunica che la domanda è stata accettata e che a breve riceveranno la card per l'accredito. Dunque, come comportarsi in questo caso? Il richiedente deve fare immediatamente una comunicazione alla Regione Basilicata o alla Lab, in cui comunica la rinuncia al reddito minimo in seguito alla missione al reddito di cittadinanza. Esiste infatti una delibera di giunta regionale, la numero 1011 del 27 settembre 2017, che sancisce il divieto di cumulo tra le due misure. Dal canto suo la CGL chiede ulteriormente alla Regione Basilicata di intervenire per fare chiarezza in merito inviando una comunicazione tutti i beneficiari del reddito minimo di inserimento. Ricordiamo che gli ultimi dati relativi al reddito di cittadinanza in Basilicata parlano di circa 10.000 domande pervenute, poco più della mità arrivano da una platea femminile. Prima che fosse attivo il reddito di cittadinanza erano presenti in Basilicata anche altre misure di sostegno alla povertà come il reddito minimo di inserimento, ma c'era anche il reddito di inclusione che era stato poi approvato dal Governo centrale, dal Governo all'epoca Gentiloni. Sono cumulabili queste misure? Come abbiamo visto nel servizio, già la Regione Basilicata con una DGR, la 1011 del 2017, stabilì l'incumulabilità del reddito minimo di inserimento con qualsiasi altra misura di carattere nazionale, all'epoca era il REI, il reddito di inclusione e quindi l'incumulabilità fra le due misure. Vi furono pure delle note esplicative della Regione in cui segnalava ai comuni, perché in precedenza il REI veniva richiesto presso i comuni, di non impedire che i richiedenti potessero presentare le domande, ma nel momento in cui veniva accolta, gli stessi richiedenti dovevano optare per una misura o per l'altra in quanto incumulabili fra di loro. Quella regionale, il reddito minimo di inserimento, vede la platea coinvolta, impegnata in alcuni processi di inserimento lavorativo. Queste persone perdono questo lavoro? Molti sono impiegati, non lo so, nei comuni o anche nel consorzio di bonifica. Che cosa succede a queste persone? Non possono più continuare a prestare questo servizio? In questi casi qua… E si mettono in corsa nel processo previsto per il reddito di cittadinanza alla ricerca di un posto di lavoro. Esatto, nel momento in cui loro optano per il reddito di cittadinanza, in quel caso là chiaramente devono adeguarsi a quelle che sono le regole previste dalla normativa propria. Quindi sono incumulabili e il cittadino lucano deve scegliere se continuare a percepire la misura che percepiva in origine, quella del reddito minimo di inserimento in questo caso o del reddito di inclusione nel secondo caso, oppure percepire il reddito di cittadinanza, anche se… Prego, prego. Per il reddito di inclusione, visto che è una misura anch'essa a livello nazionale, bisogna dire questo, che il reddito di inclusione che è previsto per 18 mensilità, nel momento in cui il richiedente presenta domanda di reddito di cittadinanza e quindi la sua domanda viene accolta decade, è automatica, quindi inizierà a percepire il reddito di cittadinanza per le 18 mensilità previste. Certo, perché le casse del governo centrale quelle sono, non è che possono diramarsi su più fronti. Sì, cosa volevo chiederle, un altro aspetto di questa vicenda, no, passiamo a quanto voi vi state occupando anche di un altro cavallo di battaglia del governo gialloverde, che è quello della quota 100 per quanto attiene il sistema pensionistico, rispetto a quest'altro provvedimento, come si sta procedendo? Ci sono state delle domande presentate in Basilicata? Sì, anche per quanto riguarda la quota 100 sono state presentate diverse domande, quindi l'Istituto, l'Inps in questo momento si trova a affrontare diverse attività, prima è partita la quota 100, ora sta partendo il reddito di cittadinanza, quindi le nostre strutture hanno costituito proprio dei gruppi di lavoro che devono consentire all'utenza che si rivolge ad Inps di dare quelle informazioni necessarie, oltre che gestire quelle domande, perché per il reddito di cittadinanza, ad esempio le strutture territoriali dovranno essere impegnate anche a gestire quelle situazioni di sé che presentano omissioni o difformità, a gestire ad esempio le autocertificazioni fatte dai richiedenti, quindi a valutare la veridicità delle autodichiarazioni, a gestire ad esempio le sanzioni nei confronti di coloro che hanno eventualmente dichiarato situazioni non veritiere. Invece per quanto attiene l'utilizzo anomalo della carta voi non entrate? No, la carta, allora c'è proprio un ultimo messaggio che riguarda, diramato dal nostro istituto, si tratta del messaggio del 17 aprile, quindi 2019, messaggio 1576 che precisa che tutto ciò che attiene alla card è di competenza, le informazioni sono di competenza del gestore del servizio integrato, ossia di poste italiane. Quindi voi almeno in questo ne siete fuori? Sì, in quanto la Convenzione esiste fra il Ministero e il poste italiane, l'Inps è al di fuori dalla Convenzione, pertanto non possiamo entrare in merito a situazioni particolari che riguardano l'utilizzo o comunque ciò che riguarda la carta. Anche gli accrediti sulla carta e tutto il resto. Inps si limita a predisporre gli accrediti proprio per consentire a poste italiane di rilasciare la carta. Ma a proposito di questo, sono circolate anche delle voci che alla fine nell'esame di tutte le carte che vengono richieste per accedere a questa misura, ne vengono fuori dei compensi anche minimi, addirittura anche fino a 60 Euro, è vero questo? Certo, voglio dire, l'erogazione del beneficio, come dicevo prima, innanzitutto è calcolato meccanicamente dalla procedura informatica, dove vengono inseriti gli aspetti patrimoniali e reddituali del nucleo familiare. La condizione economica delle persone. In questo rientra l'indicatore ISEE, rientra il reddito familiare, rientra appunto il reddito che riguarda immobiliare e inoltre il reddito mobiliare dei singoli componenti del nucleo familiare. Quindi gli esiti e quindi il pagamento sarà conseguente a questi dati inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica. Ma lei faceva riferimento al fatto che l'istituto oggi, come oggi, si ritrova a gestire tutta una mole di lavoro che se è una mole di lavoro aggiuntiva. Voi ce la fate come istituto a far fronte a questa situazione? All'istituto sicuramente... Rispetto anche all'organico che avete a disposizione, anche per quanto attiene la sede lucana, come quelle decentrate? Sicuramente l'istituto lo deve fare e ce la farà, grazie all'apporto e al contributo... Si può pensare ad una vertenza IMSS? No. No, no. Perché... Ogni singolo collega dà il massimo per poter soddisfare quelle che sono le esigenze dei singoli utenti. È prevista anche l'assunzione di diverse unità sul territorio nazionale. Speriamo che anche in Basilicata arrivi una parte di questi colleghi per cercare di soddisfare ancora di più e al meglio quelle che sono le richieste dell'utenza. Le esigenze soprattutto di questo momento. Ma invece per quanto attiene l'aspetto dell'inserimento sul mercato del lavoro attraverso questi navigator, attraverso i centri per l'impiego? L'IMSS non c'entra più nulla. Diciamo che nel momento in cui viene erogata la misura, appunto, è sottoscritta la cosiddetta DID, dichiarazione sostitutiva unica, i centri per l'impiego, appunto, convocano coloro che risultano percettori della misura, i quali dovranno sottoscrivere un patto per il lavoro e quindi oppure un progetto personalizzato che è di inclusione sociale, quindi diciamo che è un aspetto successivo che riguarda prettamente i centri per l'impiego. Però le voglio fare un esempio. Nel momento in cui io percepisco la card, mi è stata assegnata questa card con l'ammontare che mi spetta rispetto alla mia condizione economica, nel momento in cui dovessi trovare un lavoro, grazie a questo processo che comunque viene previsto nella misura, attraverso i navigator, attraverso i centri per l'impiego, io non percepisco più, ci sarà un momento in cui io avrò il mio stipendio e avrò anche la carta? A fianco al modello di domanda previsto per richiedere la misura sia del reddito di cittadinanza che della pensione di cittadinanza, ci sono due appositi modelli che sono RDC, COM, ridotto ed esteso, che riguardano proprio queste attività. Se nel corso della percezione di questa misura un componente del nucleo familiare appunto viene avviato ad un'attività lavorativa, deve comunicare proprio con il modello RDC, COM esteso, proprio questa attività che ha intrapreso. Questa nuova situazione, se non lo fa? Perseguibile? Perseguibile, può decadere dalla misura, è uno degli obblighi che hanno… Quindi non è il centro per l'impiego che una volta assicurato il lavoro ad un cittadino che percepisce la misura del reddito di cittadinanza fa comunicazione all'Inps, lo deve fare il cittadino? Sì, esistono questi modelli che servono proprio nel caso di attività di lavoro dipendente, oppure nel caso in cui il componente del nucleo avvia un'attività autonoma, deve comunicare attraverso questo apposito modello. Quindi ci sarà ancora un bel po' di lavoro da fare, perché… Certo, il lavoro è tanto, siamo solo all'inizio, quindi insomma… Siamo solo all'inizio. Chiaramente man mano che si andrà avanti, le cose si chiariranno sempre di più. E poi si andrà a ruotare tutto questo processo, naturalmente. Saranno più fluide tranquillamente. Nella speranza che questi cittadini, i nostri concittadini lucani, riescano a trovare un proprio lavoro e non siano più assistiti. Questo è un commento che facciamo noi, che ci aggiungiamo noi. Bene, grazie mille Dottor Leopardi-Bara, grazie per il suo contributo. Comunque naturalmente, nei momenti in cui ci dovessero essere dei dubbi rispetto alla percezione di questa misura, ci sono gli sportelli IMSS, vero, ai quali è possibile rivolgersi. Gli sportelli, come ho detto prima… Ci sono degli sportelli dedicati. Ci sono i centri di assistenza fiscale, che sono i CAF, che li conosciamo bene. Quindi insomma si farà tutto il possibile per poter soddisfare… Solo un'ultima domanda, qual è la percezione? C'è una fetta di povertà in Basilicata? La percezione, insomma, è sicuramente… il numero delle domande presentate ne dà una prova importante. Ricordiamo che sono 13 mila. Sono 13 mila e sono destinate a aumentare sicuramente. Quindi insomma, presumo che sia sentita come situazione sul tessuto sociale della nostra regione. Bene, grazie mille, grazie ai nostri telespettatori nella speranza di aver fatto un po' di chiarezza e ai nostri telespettatori e ai nostri telespettatrici ad un prossimo appuntamento con Caffè di Traverso.